Allora Francesca, tutto a posto per la puntata, fatto playlist, controllato un po' con le cose che mando? Tutto a posto, dobbiamo solo andare in onda. Accendi un attimo il computer, dai. Allora, ora apro il sito. Eh Carlo, ma qua non funziona niente però, ma come facciamo? Cazzo, si è bloccato il computer! E ora che facciamo? C'è solo una cosa da fare. Cosa? Quella cosa. Che cosa dobbiamo fare? La soluzione è un talon.